Assolutamente sì, il lavoro che è stato fatto in questo oltre anno e mezzo è stato un lavoro straordinario da parte di questa rete di 81 elementi, universitari, centri di ricerca, start-up, spin-off e grandi aziende che hanno messo a disposizione le migliori infrastrutture e infrastrutture per poter realizzare questo grande sogno, con un sistema assolutamente organizzato e ben definito sia nei contenuti che negli obiettivi da conseguire. Questo è un aspetto rilevante che abbiamo fornito proprio nell'ambito del PNRR perché dobbiamo rispettare quei tempi, quindi scadenze, tempi anche nei confronti delle gare perché alla fine poi dobbiamo in qualche modo far sì che questo diventi non solo un sogno ma una realtà per il bene e per la sicurezza di tutti gli italiani e deve diventare una grande iniziativa per creare una filiera in questo settore che sia un'eccellenza anche a livello europeo come peraltro richiesto anche da altri partner. Dalla sinergia, l'interoperabilità ma soprattutto la capacità di federare sistemi già esistenti è una caratteristica che ci contraddistingue, la possibilità di fare data fusion di tutta la sensoristica è assolutamente innovativa, un uso molto ottimizzato dell'intelligenza artificiale e il deep learning ci consentono di guardare al futuro, anzi al presente con grande determinazione e fiducia nei nostri mezzi.